Contusione alla spalla, al braccio e alla mano. Queste le lesioni riportate dalla responsabile del Globo di Ferrara lo scorso 15 febbraio, quando tentò insieme alla guardia giurata di fermare tre persone, due poi fuggite a piedi e accusate di aver commesso una rapina nel negozio. La terza persona e l'unica fermata in flagranza era una 27enne di origine romena arrestata dalla Polizia di Stato per il reatto di rapina in concorso. Ma secondo gli inquirenti, anche quest'ultima sarebbe una vittima del giro di prostituzione che ha poi portato a tre arresti tra il 28 febbraio e 2 aprile scorsi da parte della squadra mobile a conclusione dell'operazione Firefly. I due sfuggiti dal negozio Globo sarebbero quindi la donna di 29 anni e il 26enne ora in carcere su cui pende anche questa nuova accusa oltre a quella del reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Per la squadra mobile la 27enne era soggiogata dai due arrestati che erano a capo della banda la quale voleva controllare il giro di prostituzione in via Ferraresi a Ferrara. Nella borsa della donna fermata quasi due mesi fa viene trovata una maglietta da 50 euro priva del taccheggio, capo d'abbigliamento che avrebbe fatto suonare comunque l'allarme delle barriere antitaccheggio del Globo da cui scaturì poi il parapiglia nel tentativo di fermare i ladri fino al ferimento della responsabile dell'attività commerciale. Volevo sottolineare la prontezza di riflessi della guardia giurata e della responsabile della commessa stessa del Globo che sono stati fondamentali per innanzitutto l'arresto in flagranza di uno dei responsabili e poi per ricostruire tutti i fatti. Quindi per noi la collaborazione dei commercianti è sempre fondamentale in questo caso anche al rischio della propria incolumità perché ricordiamo che la responsabile si è fatta anche male con una prognosi di tre giorni, con coraggio e spirito di iniziativa è riuscita nel dare un grande aiuto alle forze dell'ordine.